Ciao a tutti e bentornati sul canale Nuovo Vota Eating a Day Siamo arrivati al numero 34, vi ricordo che se vi siete persi tutti gli altri vi lascio sempre la playlist nell'info box Allora, partiamo subito dalla colazione Oggi vi mostro alcune ricettine molto interessanti, sono tutte vegan Tra cui questa crostata al farro vegan E' facilissima da fare, questi sono gli ingredienti Basta mettere tutti gli ingredienti all'interno di un mixer e frullare fin quando si creerà l'impasto Se non avete la farina di farro o non vi piace, potete sostituire quella parte con la farina 00 Quindi una volta che si sarà creato l'impasto, andate a compattarlo con le mani Una volta che l'impasto si sarà compattato, lo ricoprite con la pedicola trasparente e lo riponete in frigo per almeno 2 ore Dopodiché tiratelo fuori e stendetelo con due fogli di carta forno E una volta steso lo mettete appunto nella formina da crostata Togliete i bordi, magari se sono troppo alti, togliete i bordi della pasta E quei bordi conservate perché ci serviranno per fare delle decorazioni sopra Buccherellate il fondo, ci mettete la vostra marmellata o crema, quello che volete E con la pasta avanzata creiamo appunto le decorazioni da mettere sopra Io creo delle stelle E la inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti Poi vedete voi in base al vostro forno Ed ecco la mia colazione Mi piace un sacco preparare qualcosa il giorno prima Per la colazione del giorno dopo Infatti io raramente acquisto cose al supermercato Per quanto riguarda il pranzo Ho semplicemente cotto dei fagioli cannellini Li ho prima messi tutta la notte nell'acqua E il giorno dopo ho messo nell'acqua uno spicchio di aglio Del sedano, un po' di olio, sale, pepe E ho cotto fino a quando appunto si sono ammorbiditi i fagioli Ho cotto anche la pasta in un'altra pentola E questo è stato il mio pranzo super super veloce E io adoro i legumi Tutti i tipi di legumi Quanto riguarda lo snack Vi do questa ricettina davvero golosa E la trovate sul mio blog È un budino al cacao e datteri vegan Non c'è burro, non c'è latte Tutto totalmente vegan Facile da preparare Vi ricordo che la ricetta la trovate sul mio blog Vi lascio il link giù nell'info box Per quanto riguarda la cena Vi do invece la ricettina per questi burger alle zucchine Facilissimi anche questi da preparare E sono anche questi vegan E si preparano in questo modo Tagliate tutte le zucchine a cubetti E le cuocete in una padella con un po' di olio e di aglio Quando saranno ben cotte Togliete l'aglio e mettete tutto in un frullatore E ci aggiungete il pan grattato Quattro fettine di pan carré senza la crosta E due rametti di menta fresca O basilico se preferite Un pizzico di sale e un pizzico di pepe Frullate il tutto Se il composto è ancora liquido Aggiungete altro pan grattato Se volete, se non siete vegan Potete aggiungere anche un po' di parmigiano E con questo composto iniziate a creare le vostre polpette O i vostri burger E li potete cuocere in padella con un filo di olio Addirittura friggerli Quindi mettendo un po' più di olio di semi nella padella Provateli Perché davvero sono qualcosa di eccezionale Io semplicemente li mangio con un po' di insalata E questo è stato il mio What I eat in a day Se questo video vi è piaciuto Come sempre ricordatevi di lasciarmi un like Iscrivetevi al canale se siete nuove E seguitemi anche sul mio Instagram Io vi aspetto Vi mando un grosso bacio E alla prossima Ciao